Il fango, quello c'è sempre stato, come il coraggio dei piloti, le curve e le dune artificiali delle piste, lo spettacolo di uno sport vero. Il motocross ha un fascino speciale, è una storia già lunga. A giudicare da queste immagini piene di storie e di fascino, nonostante un po' di fango di troppo e qualche appoggio in più, il trial dagli albori ad oggi non è cambiato molto. Anche per